Micro credito per finanziare le piccole e medie imprese, reddito di cittadinanza regionale, case della salute e un piano olivicolo regionale. Sono questi i punti di forza del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali. Un programma ribadito nel fine settimana dalla candidata alla Presidenza Antonella Laricchia accompagnata dal Vice Presidente della Camera Luigi Di Maio. Per loro ieri mattina passeggiata sul lungomare di Bari e visita nel centro storico. Di Maio, che ha proseguito il suo tour a Lecce e a Taranto, ha fatto riferimento ai centri storici delle città pugliesi come ricchezza da valorizzare. Poi ha parlato della proposta di finanziare la creazione di nuove imprese con il taglio agli stipendi degli eletti del Movimento 5 Stelle. Si stima, secondo Di Maio, che in Puglia si possano creare circa 200 imprese nei settori dell'efficientamento energetico degli edifici, dell'agricoltura biologica, del turismo e della cultura. Non è tutto, non basta a far ripartire l'intera regione, ma veniamo qui con la forza e la credibilità di una forza politica che ha già fatto delle cose. Se noi ci siamo tagliati gli stipendi e con i soldi del mio stipendio partiranno nuove imprese, noi siamo orgogliosi di dirlo e lo racconteremo a tutta la Puglia oggi. Antonella Laricchia ha sottolineato la loro prima volta in campo e ha insistito sul reddito di cittadinanza per le fasce più deboli. Noi non abbiamo mai governato né questa regione né il governo nazionale. Non abbiamo alcuna responsabilità sul passato, ma abbiamo una visione del futuro molto precisa che punta sul turismo, sull'agricoltura, su tutti quei settori che creano posti di lavoro e sul reddito di cittadinanza. Chiediamo di essere messi alla prova perché questa possibilità non l'abbiamo mai avuta.